ciao a tutti popolo del tubo benvenuti in questo nuovo test mod ragazzi eccoci qua ecco le prime mod dell'agritecnica che stanno uscendo vi ricordo che le mod dell'agritecnica usciranno tutte suddivise in quattro settimane da qui fino a natale ragazzi quindi ne usciranno un paio tre quattro non so adesso quante ne usciranno a settimana ma verranno insomma scaglionate e verranno fatte uscire le prime mod tra le prime due mod che sono uscite proprio ieri troviamo la bellissima brili field master 20 ovviamente si parla per console per pc trattasi di una splendida botte per liquame digestato una splendida botte che non può mancare assolutamente nelle vostre fattorie e nel vostro farming simulator 19 quindi ciancio alle bande banda le ciancio andiamo ad iniziare il test mod allora la botte si trova in attrezzi ovviamente carro botti liquami e trattasi solo di una botte la botte field master 20 172 mila euro 20 mila litri di capacità e accetta appunto liquame e digestato come vedete lui vi dice che comunque accetta anche gli interratori ovvero il sincalt o il catros 6200 eccetera eccetera quindi come potete vedere accetta diciamo anche gli altri cosini poi insomma ve lo farò vedere andiamo a vedere nel dettaglio ovviamente modello 3d e texture non c'è niente da dire perché tutta roba made in giant software quindi ragazzi che ci volevo inventare tutta roba made in giant software quindi è roba di qualità perché alla giants sui modelli 3d non gli esepo di veramente niente quindi splendido modello veramente bello è l'unica cosa che si può configurare sono i colori possiamo possiamo scegliere il nero che io preferisco oppure questo grigio che però mi ricorda un po troppo la garant non è che mi piace molto preferisco il nero visto questo andiamo a vederla in gioco e ovviamente iniziamo sempre con il dirte il dirte della giants voi sapete che è sempre molto leggero infatti anche in questo caso non è un dirte pesante insomma è un dirte che se non lavate il mezzo insomma vi ritroverete un medio dirte ecco questo è il dirte alla massima dirtezza si dice dirtezza è un dirte alla massima dirtezza niente di più niente di meno insomma il dirte promosso anche questo e si sa che se la giants ci va leggerina con il dirte sull'usura è ancora più leggera infatti vedete che le parti usurate risultano quasi esclusivamente queste sotto queste un po più meccaniche ma non abbiamo nessuna scrostatura nella botte non abbiamo scrostatura da nessuna parte non quando avevo fatto vedere ho fatto il test mod della della classe della scusate della della trincia no della gd io l'ho già testata ragazzi quindi quando usciranno la ritesterò già testata avevo avevo detto che non mi convinceva l'usura voi mi avete detto sì va beh ma sicuramente l'aggiorneranno e invece no perché vedete questa mod qua è aggiornata è uscita e l'usura ancora non c'è quindi secondo me l'usura proprio non ci siamo ncs o ragazzi prima di vedere il funzionamento la prova in campo vi faccio vedere gli attacchi con i mezzi di default ovviamente non mi potete scrivere ma col coso della bossini ma con quello con quell'altro perché non è che io posso fare i test che ci sono alcuni che non si accontentano mai uno nel test mod del fiat del cingolato mi ha detto ce lo devi far vedere che si attacca con ogni mezzo e che stiamo qui quattro giorni i miei test mod ragazzi sono un'infarinata per farvi vedere se la mod può piacervi ma poi bisogna che ragazzi con le vostre manine insomma guardate voi e vedete voi insomma allora questo è il primo modello di default che c'è nel gioco del d'interratore guardate che spettacolo il tubo che una volta attaccato compare eccolo qua compare col cosino sopra quindi ovviamente è super mega super mega riflicisciatloso come era la cosa ecco qua super mega funzionante accendi questo accendi quello lì tiri giù quello ed ecco fatto ragazzi quindi super compatibile con l'erpice o con anche con la roba della samson ecco qua questo è l'interratore della samson adesso io non faccio danni ecco fatto ragazzi quindi come vedete accetta pure quello più grande della samson o ragazzi teoricamente accetta pure questo se riuscite a farlo entrare perché io per farlo entrare sono stato a combatte otto giorni sono otto giorni che sto a combatte per riuscire a entra dentro alla botte sto cosa alla fine l'ho sbattuto contro un muro come ci sono infilato per forza quindi non so se nella realtà questa sia una cosa realistica per questa botte però sappiate che funziona anche con l'interratore questo qua quello lungo lungo vi ricordo che potete muovere anche il tubettino ragazzi il tubettino patatino questo qua di lato questo qua ragazzi si muove io adesso ad esempio se riesco a ricordarmi tasti ecco io ad esempio con il joypad lo muovo premendo l1 e lo stick destro voi ovviamente lo muoverete con il mouse guardate che spettacolo si alza si abbassa e in avanti e in basso così ragazzi potete simulare di andare a pescare o da un'altra botte o dal o dal condottino quello dei maiali dalle mucche insomma potete simulare di andare a pescare il il vostro liquame e poi ripiegate il tutto veramente spettacolare e poi ragazzi iniziate ovviamente quando quando volete quando volete iniziare la vostra come si dice la vostra sluraggine avrete ovviamente bisogno degli interratori dietro perché come vedete non c'è il come si chiama il gettino si dice gettino non c'è il cosino per gettare quindi non potete usarla da sola ma va appunto usata con interratori o cose varie insomma iniettori chiamateli un po come ve pare ragazzi questo è tutto ragazzi fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questa brili field master 20 ragazzi se va convinto se vi piace se la userete eccetera eccetera io come al solito ringrazio i miei amici abbonati che sono l'anima la vita il cuore del canale mi consentono di continuare a portare avanti questo canale che vi piace tanto ragazzi quindi grazie grazie se anche volete fa parte delle persone che portano avanti il canale in descrizione potete fare donazioni libere o semplicemente abbonarvi nel prezzo che più vi aggrada detto questo vi ricordo anche potete acquistare farming simulator a prezzo scontato dal link in descrizione ma non solo anche tanti altri giochi andateci a vedere e che ci vediamo in live su twitch domani mattina e domani sera ragazzi buon sabato sera divertitevi ciao